ciao a tutti oggi prepareremo la confettura di melagrana il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono chicchi di melagrana limone pelato a vivo mele sbucciate tagliate a pezzi e zucchero diametria la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i chicchi di melagrana ed il limone ed azionare il bibi per 40 secondi a velocità 9 filtrare con un colino a maglie strette abbiamo ricavato 400 grammi di succo adesso metteremo nel boccale le mele e le frulliamo per 10 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il succo e lo zucchero e cuocere con il cestello al posto del misurino per 30 minuti 100 gradi velocità 2 proseguire la cottura per 10 minuti temperatura varoma velocità 2 la confettura è pronta trasferire in basetti di vetro confettura di melagrana grazie e alla prossima ricetta confettura di melagrana grazie a tutti confettura di melagrana grazie a tutti grazie a tutti Grazie.